Il 35% dei tumori è legato alla cattiva alimentazione e sono in aumento le patologie a carico di stomaco, pancreas e intestino. Di qui il progetto Salute per Bari, illustrato in un convegno tematico alla presenza del premio Nobel pugliese Francesco Gnisci. Obiettivo mettere in campo una strategia tutto tondo sulla prevenzione. In primo piano il combinato disposto dieta mediterranea e consumo di acqua alcalina ionizzata ottenuta attraverso un processo di depurazione. Recenti studi scientifici infatti hanno evidenziato le proprietà antitumorali dell'acqua ionizzata in grado di neutralizzare l'acidità del corpo disintossicando gli alimenti e l'organismo. Il progetto prevede tra l'altro un piano di sperimentazione su alcuni pazienti oncologici degli ospedali di Bari. In ogni oncologia e in ogni clinica ci sarà l'arruolamento di 40 pazienti. L'arruolamento sarà fissato da una azienda esterna che si preoccuperà dell'arruolamento, del follow up e della certificazione dei dati raggiunti. Per cui noi vogliamo vedere se modificando alcuni parametri di rischio riusciamo anche a deviare il corso della malattia insieme alla chemio e radioterapia. Quindi diciamo che daremo un supporto gratuito ai malati del nutrizionista, dello psicologo, del lagopuntore, del riabilitatore. E quindi ogni mese ci sarà a disposizione l'attività di queste figure e vogliamo vedere se la terapia oncologica integrata ha un vantaggio in termini di sopravvivenza e di qualità della vita.